Dopo lo sprint imperioso di Inato Oitenberg sul traguardo di Porto Sant'Elpidio il Giro Donne riparte per la quinta tappa dall'Abruzzo Beh, dimmi, cosa devi chiedermi? 10 a 1 che mi parte con sicuramente Sicuramente un bellissimo Giro d'Italia Un 50% Salve Oh no, oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.